Ciao! Io mi chiamo Eldarion e questo è il video introduttivo al canale. E sì, sto facendo questo video a quasi tre anni dall'apertura del canale, ma su questi sono dettagli. A parte gli scherzi, ragazzi, benvenuti a tutti voi che siete approdati per la prima volta su questo canale. Io sono Dario, in arte Eldarion, e questo è il mio canale. Di cosa parlo? Principalmente di calcio, sono un appassionato di calcio e ci tengo a precisare, appassionato, non ho nessun tipo di patentino, non sono un allenatore, non sono un tattico, non sono un match analyst, non sono niente di tutto questo, però parlo di calcio da semplice tifoso e appassionato. Sono tifoso del Napoli e su questo canale parlo principalmente appunto del Napoli. Su questo canale vedrete post partita, live reaction, pagelle, video analisi. Parlo a 360 gradi del mondo Napoli, nei limiti appunto delle mie competenze. Ho aperto il canale principalmente perché mi piace parlare di calcio e mi piace, diciamo, esprimere il mio parere su una passione che mi porto avanti ormai da una vita e spero che un giorno tutto questo possa diventare il lavoro con cui poter campare per tutta la vita. Ecco, il mio obiettivo è un po' quello lì. Detto questo, io vi ringrazio per il tempo che avete dedicato a questo video, spero che i miei contenuti vi piacciono e se è così, mi raccomando, like a ogni video, iscrizione che è totalmente gratis. Detto questo, noi ci vediamo prossimamente sul tubo, sempre e comunque Forza Napoli e niente, alla prossima!